I più coraggiosi hanno raggiunto l'eremo di Sant'Onofrio per unirsi alla fiaccolata in onore di San Pietro Celestino da Morrone, più conosciuto come Papa Celestino V, e proprio dall'eremo, il rifugio in cui Pietro ricevette la notizia della sua nomina pontefice, che parte il corteo organizzato ogni anno dall'Associazione Celestiniana per la ricorrenza della morte del Papa. Centinaia di fedeli, dopo aver assistito alla Santa Messa, scendono nel sentiero impervio, che parte dalla dimora roccata sulle pendici del Monte Morrone, e da lì raggiungono Bagnaturo, una piccola frazione che unisce sul Mona Pratola per recarsi nella chiesa dedicata al Santo. Gli autoctoni considerano il rito una sorta di piccola anticipazione della perdonanza celestiniana, l'evento religioso che si svolge in agosto all'Aquila e che ogni anno è preceduta da una fiaccolata che parte proprio dal santuario, per poi attraversare i vari paesi dell'Aquilano, dando il via al cammino del perdono. Questo è l'inizio di un percorso che proseguirà poi con la partenza della fiaccola del Morrone il 16 e il 17, che darà poi l'avvio al percorso della fiaccola fino all'arrivo, il giorno dell'apertura della perdonanza. Forse sarebbe anche giusto incominciare a ragionare, visto che la Regione oggi si appresta a portare un nuovo regolamento sui percorsi religiosi, perché no? Di inserirlo all'interno di un percorso religioso, qualora ne dovessero sussistere tutte le caratteristiche, alla stregua di tanti altri percorsi che oggi sono già inseriti. Ma l'eremo di Santo Nofrio fa spesso parlare di sé anche perché fa parte del complesso celestiniano, un'area con potenzialità turistiche che ha ricevuto dei fondi destinati alla sua valorizzazione. Per quanto riguarda la situazione dello chalet, ho saputo questa sera che dovrebbero essere avviate a brevissimo le procedure per definire finalmente la rimozione dell'uso civico e quindi poter recuperare all'uso pubblico comunale del fabbricato lo chalet. Questo speriamo ci rimetta nelle condizioni di poter rimettere l'area nella possibilità di essere visitata dai turisti, dai visitatori dei sulmonesi, perché chiaramente uno dei posti più belli dell'Abruzzo interno non ha neanche un minimo di appoggio per poter accogliere delle visite. Dobbiamo valorizzare manifestazioni come queste perché è sostenere soprattutto, proprio nell'ottica storica, culturale e dall'appartenenza dei nostri luoghi. Però ci stiamo lavorando perché è importantissimo per noi riaprire soprattutto la struttura e ridare visibilità e fruibilità a tutti i luoghi. Il Rito ha inaugurato le tre giornate di festa che animeranno il weekend della frazione con un programma di concerti serali, processione domenicale e fuochi d'artificio.